Don Vito ha qui riunita tutta la sua parrocchia davanti, ecco se vogliamo invitarli a preghiare Fratelli e sorelle, preghiamo Eme, Ave Maria, Azia, io sono te, tu sei la, e donne, e beh, Esù, da Maria, oh, catori, orte, e Amen, eh, sì, padre adesso se vogliamo cantare insieme ai, cantare, cantiamo una canzone così, no, 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 ecco questo, no, se vogliamo cantare insieme ai fedeli, beh, vuole indicare quale canzone andremo a fare, prego, Fratelli e sorelle, cantiamo Eme, prendete canto, agina, e, canto numero, o, titolo, il copo, ammino, tutti Eme, tutti nella gioia, ignore, Esù, il copo, ammino, E, 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 i, a, su, e, no, e, grazie lo stesso Don Vito, grazie, ma se figuri, non so con, successo, allora, ma no, eventualmente, mi scus, tantissimo, e re, ovani, grazie, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Grazie.